Noi siamo qua all'interno della nicchia del nuraghe Pizzinno. Alipiate bande. Quello che è rimasto dopo il crollo. Ma fallo anche in orizzontale le linee di visite, stai sempre in verticale, non metti sempre. Siete sposti da lì? Questa è un'altra nicchia. Poi c'è tutto il crollo. Tutto crollato a questa cupola. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.